Musica Seconda edizione di Ora Tg, il telegiornale di Re TV sul canale 18 del digitale terrestre in Sicilia. Ben trovati a voi tutti, apriamo con la pagina economica oggi, apriamo con le accerie di Sicilia, il caro Energia sta mettendo a rischio il futuro della impresa che occupa circa 200 dipendenti, altri 250 nell'indotto e che fattura 150 milioni di euro l'anno producendo tondini che poi rivende in Italia e all'estero. Oggi siamo andati in azienda. Qui si lavora senza soluzione di continuità, da mane a sera, la domenica compresa. Il fatturato è di oltre 150 milioni di euro l'anno, 200 operai all'interno della struttura, altri 250 impiegati nel cosiddetto indotto. Sono i numeri spiccioli spiccioli di accerie di Sicilia che lunedì prossimo per una settimana terrà i cancelli chiusi, uno stop forzato a causa del caro bollette che ha praticamente raddoppiato i costi energetici. Non solo di luce elettrica si tratta, anche se si parte proprio dalla corrente elettrica, ma anche del costo del metano, dell'ossigeno e della materia prima che con l'energia elettrica viene comunque prodotta e acquistata da accerie di Sicilia. L'azienda catanese fa parte del gruppo Alfa Acciai, produce tondini, che vende sia in Italia che all'estero. Già a giugno e luglio c'erano stati dei fermi, poi ad agosto, quindi la riapertura dei cancelli appena una settimana fa adesso, lo spettro della nuova chiusura. In generale molto più che raddoppiati quelli dell'energia elettrica. Se l'anno scorso si parlava di 60 euro a megavattora, oggi per un'azienda come la nostra si parla di 5-600 euro a megavattora, quindi è quasi moltiplicata per 10. In più le isole, quindi la Sicilia insieme alla Sardegna, hanno un aggravio maggiore su alcune voci di costo, perché trasporti e dispacciamento sono molto diversi dal resto d'Italia. E quindi siamo appesi, così si può dire, al decreto Energy Release, che dovrebbe in parte almeno compensare i costi tra isole e penisola. Questo ci permetterebbe di essere un po' più competitivi, almeno in Italia. Oggi noi scontiamo la non competitività nel mare mediterraneo, che è il nostro bacino di vendita, perché la Sicilia non assorbe più una quantità sufficiente a tenere in piedi a Cielo di Sicilia. Scontiamo la concorrenza dei turchi, che hanno dei costi completamente diversi. Quindi è indispensabile almeno avere la competitività italiana. Maledetta insularità anche per quelle aziende che vanno bene. Parliamo di un fatturato dello scorso anno superiore ai 150 milioni. Quest'anno pensavamo di salire ancora come vendita e fatturato, invece ad oggi pensiamo che a fine anno sarà un meno 30%, un meno 40%, che in prospettiva potrebbe peggiorare. L'azienda ha investito tanto in questi anni? Sicuramente c'è una tristezza profonda. Io sono qua da 12 anni, sono stati fatti davvero vari investimenti di decine di milioni di euro per migliorare la tecnologia, per migliorare l'ambiente, per migliorare l'impatto ambientale, per migliorare la sicurezza dei lavoratori e per migliorare la qualità del prodotto. Questi investimenti oggi vedono un futuro nero. Le maestranze sono con acciaerie di Sicilia? Siamo tutti molto preoccupati per la situazione attuale, però anche molto vicini all'azienda che ci ha sempre sostenuto in questi anni e quindi faremo altrettanto anche noi. Anche perché l'azienda è con voi, nel senso ha tentato in tutti i modi di tenere aperto fin quanto è possibile, ma la bolletta è la bolletta. Esatto, e continuano anche a investire, quindi da parte nostra massima collaborazione. La pagina politica adesso è guerra dei sondaggi per le regionali in Sicilia. Gli istituti demoscopici rilevano dati contrastanti, così questo pare essere segno di una situazione di incertezza. Vediamo. A due settimane dal voto per le regionali a tenere banco è la guerra dei sondaggi tra i sei candidati alla corsa per la presidenza della regione siciliana. Ogni partita, movimento, formazione politica di Nuova Forgia si affida all'esplorazione delle società specializzate nei rilevamenti delle intenzioni di voto dei siciliani, con percentuali differenti tra i vari competitori e schieramenti in appoggio. I sei in corsa per la portrona di governatore sono Renato Schifani, Centrodestra, Caterina Chinnici, Centrosinistra, Nuccio Di Paola, De Cinque Stelle, Gaetano Armao, Azione Italia Viva, Catero De Luca, Sicilia Vera ed Eliane Esposito, Siciliani Liberi. Rimane fuori dalla competizione Fabio Maggiore di Italia Sovrana e Popolare su decisione del TAE. Corposo l'esercito dei candidati nelle liste del Novecento in concorso per assicurarsi uno dei 70 seggi dell'Assemblea regionale. Prima dalla riforma erano 90 i posti disponibili. Nella guerra dei rilevamenti Renato Schifani viaggia sul 27,8% del gradimento, appena 5 punti in più, su Cateno De Luca, 23,5% per il candidato di lettura e fuori dagli schieramenti tradizionali. Caterina Chinnici, Centrosinistra, si attesterebbe a terzo posto con il 22,1%, quarto Nuccio Di Paola, Cinque Stelle, con il 19,5%, secondo il sondaggio commissionato all'Agenzia Ipsos dalla Corriere della Sera. Spicca un dato. Se Cinque Stelle e PD avessero confermato l'alleanza progressista, la Chinnici avrebbe il doppio del consenso rispetto all'esponente di centrodestra. Il quadro si ribalta nel sondaggio condotto dall'Istituto Demoscopico noto per la trasmissione Porta a Porta, dove Renato Schifani è indicato al 42%, Caterina Chinnici col 25%, Segue una ruota, Nuccio Di Paola, Cinque Stelle, 15% e Cateno De Luca, 12%. Le sfide in corso, stando ai sondaggi, sono piuttosto incerte. Ballerine risultano anche le liste, con il Movimento Cinque Stelle proiettato ad essere il primo partito nell'isola. La partita si gioca tutta in queste due ultime settimane, con la discesa in campo dei leader dei partiti, che sbarcheranno in Sicilia per la volata finale dei candidati e liste. Un tour de force a cominciare dalla convention di domani a Palermo del centrodestra, che si presenterà compatto a fianco di Schifani. Dal 15 al 17 in Sicilia arriverà Giuseppe Conte, il leader del Movimento, darà vita ad una vera e propria maratona con tre comizi al giorno in altrettanti comuni delle nuove province. Secondo alcune voci potrebbe venire a comiziare anche Silvio Berlusconi a Marsala, tra il 16 e il 17. Scontato il ritorno nell'isola, mancano solo le date ufficiali di Matteo Salvini, Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Infine ricordiamo che si vota nella sola giornata di domenica 25 settembre, sia per le politiche che per le regionali. Il presidente della regione siciliana ha nominato Federico Portoghese commissario straordinario per la gestione del comune di Catania in sostituzione degli organi decaduti. Portoghese, dirigente pubblico in quescenza, continuerà a ricoprire anche l'incarico di commissario straordinario alla guida della città metropolitana etnea, che gli era stato conferito a febbraio di quest'anno. Con il medesimo decreto presidenziale viene nominato vice commissario straordinario al comune di Catania, Bernardo Campo, funzionario della regione siciliana. Cronaca adesso, un intero reparto dell'ospedale civico di Palermo è stato distrutto la scorsa notte a provocare i danni, i parenti di uno settantenne ricoverato in gravi condizioni che hanno sfogato la propria rabbia sugli operatori sanitari. E' stata la morte di un settantenne la scorsa notte a far scaturire il putiferio. L'uomo, colpito da ictus, era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civico di Palermo. Appresa la notizia del decesso, intorno alle 4 di notte i parenti, una ventina di persone circa, secondo quanto ricostruito dalla polizia, hanno superato la portineria e la vigilanza, salendo al secondo piano e distrutto un intero reparto ospedaliero. Questa foto mostra gli effetti della rabbia. I parenti hanno danneggiato persino la statua della Madonna, posta nella sala d'attesa. Medici di turno e operatori sanitari presenti in quel momento raccontano di aver vissuto un vero e proprio inferno, di aver rischiato di essere colpiti dalla furia dei parenti. A nulla sono serviti i tentativi di bloccare i familiari, tanto che per riuscire a ristabilire la calma c'è voluto l'intervento di diverse volanti delle forze dell'ordine. Ad esprimere preoccupazione per l'episodio, la Fialz, la rappresentanza sindacale aziendale, la quale denuncia l'escalation di atti di violenza che si stanno registrando in ospedale, dove ormai è abitudine sfogare il proprio dolore contro gli operatori sanitari che svolgono il proprio dovere. Ieri i sanitari presenti, medici e infermieri, sono stati oggetto della rabbia dei parenti del paziente deceduto, afferma il sindacato. Solo, per pura coincidenza, gli operatori sono rimasti illesi. Chiediamo alle istituzioni che vengano adottate misure urgenti per tutelare il personale, prima che accada il peggio. Con i soldi della società di cui era liquidatore, avrebbe pagato il meccanico per far riparare le auto sue e della moglie, avrebbe comprato personal computer, pagato servizi fotografici in occasione della cerimonia di prima comunione dei figli. Per questo motivo, la Guardia di Finanza ha sequestrato 59 mila euro a Pietro Orlando, 54 anni, liquidatore, dalla settembre 2020 al dicembre 2021, della società della Energy Auditing, indacato per peculato. Inoltre avrebbe effettuato prelevamenti in contante e disposto bonifici bancari in proprio favore dal conto della società senza giustificazione. Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagna di Taormina, con il supporto dei militari del NIL, nell'ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno elevato 35 mila euro di sanzioni amministrative penali e responsabili di un cantiere adibito all'esecuzione di lavori di risanamento conservativo di un immobile pubblico ubicato all'interno del centro storico di Taormina. Il personale dell'arma tra le anomalie ha riscontrato che non erano state adottate le previste cautele per evitare i rischi di caduta dall'alto. Il ponteggio allestito non rispettava i requisiti di sicurezza all'interno del cantiere. Non erano state adottate i doni e misure per garantire la viabilità con conseguente pericolo per i lavoratori. Elisabetta II, il suo regno è finito dopo circa 70 anni. Ci sono due brevi flash siciliani in questi 70 anni perché la regina visitò ben due volte la nostra isola in un'occasione anche tragica in una delle due volte. Vediamo insieme. Considerava Palermo una vera capitale. Elisabetta II venne due volte in Sicilia nel 1980, poi nel 1992. Le foto che vedete sono state diffuse dal giornale di Sicilia. Siamo nel 1980. Elisabetta II, accompagnata dal marito Filippo, fa tappa a Palermo prima di imbarcarsi sul Britannia. Il Duomo di Moreale, Lars, la Cappella Palatina, poi Palazzo Valguarnera a Ganci. Una breve visita tra due ali di folla. Poi nel 1992 la regina avrebbe dovuto nuovamente incontrare il popolo palermitano, anche se per qualche istante, ma tutto saltò cinque giorni prima dell'arrivo della sovrana, anche in questo caso, per l'imbarco sulla Britannia. La strage di Capaci, dove la regina Elisabetta si fermò per qualche istante, esclamando incredibile. 70 anni di regno. Una piccola capatina dunque anche dalle nostre parti, per una donna che è entrata nella storia. La regina Elisabetta amava la Sicilia, come l'aveva amata sua nonna Mary Di Tec, ed è venuta in Sicilia due volte. Nel 1980, in visita ufficiale a Palermo, arrivò con il Panfilo Britannia, visitò Palermo e vi si trattenne anche più tempo del previsto, perché considerava Palermo una vera e propria capitale. tornò nel 1992, doveva essere un breve passaggio per prendere il Britannia, arrivava in aereo e andare a Malta. Pochi giorni prima però i giudici Falcone e sua moglie vennero fatti saltare in aria e volle passare nel punto della tragedia a lasciare una corona di fiori che poggiò accanto a quella del presidente Scalfaro e si trattenne in preghiera lì. Lei da tempo vive in Italia, ma per i britannici, per gli inglesi, chi è stata, chi è, chi continua forse ad essere Elisabetta II? La regina considera che comunque generazione e generazione di inglesi, di britannici e non solo comunque di cittadini dei 15 regni di cui era il capo di Stato l'abbiamo sempre considerata una parte della famiglia e continuerà a esserlo e dal 52 mio padre stesso aveva avuto praticamente solo lei come regina, insomma solo tre anni di Giorgio VI e continuerà a esserlo. Il nostro affetto, a prescindere da quelle che possono essere le opinioni politiche anche sulla monarchia o religiose, l'hanno resa un elemento imprescindibile. Adesso inizia il regno del figlio Carlo III che tanti anni fa con l'allora consorte la principessa Diana visitò anche Catania il Catanese. Il regno di Carlo III è già partito e sarà sicuramente in continuità con quello fatto da sua mamma e anche da suo nonno all'insegna della sua abilità. Il fatto stesso è che come sua mamma ha deciso di non cambiare nome come avrebbe potuto è semplicemente di continuare a essere Carlo. E Carlo anche gli italiani, in fondo, gli volete bene, lo avete preso in giro per decenni ma anche lui è un punto di unione, è un punto di riferimento e di sobrietà. È morto nell'ospedale San Marco di Catania un avvocato, 83enne, che era stato trovato gravemente ferito con un colpo alla testa la mattina del 5 settembre nella sua abitazione di Castel di Udica dove viveva da solo secondo le indagini dei carabinieri l'uomo sarebbe stato vittima di una rapina la sera prima del ritrovamento illegale del quale non è stata resa nota l'identità a causa della gravità della ferita procurata con un corpo condundente era stato appunto ricoverato a San Marco dove purtroppo però è deceduto. A Deci Catena nel Catanese avviate le localizzazioni degli immobili danneggiati dal sisma del 2018 l'esclusione di alcuni fabbricati dai risarcimento alimenta polemiche. Un'errata mappatura delle abitazioni da delocalizzare secondo le norme statali e le successive indicazioni fornite ai comuni dalla struttura commissariale per la ricostruzione posti sisma e a Deci Catena scoppia la polemica su chi ha ottenuto i fondi per acquistare una nuova casa e coloro la maggior parte rimasti fuori dai sostegni economici. In via Petralia a cui si riferiscono le immagini sono state avviate le prime fasi di abbattimento dei fabbricati costruiti sulle faglie sismiche rimasti seriamente danneggiate dal terremoto della notte di Santo Stefano del 2018. Nel centro etneo il boom edilizio tra gli anni 80 e 90 ha dato vita ad un'esplosione demografica incontrollata. Si edificava ovunque senza tenere conto delle fragilità del sottosuolo con il risultato che in poco meno di 20 anni molti degli stabili sono stati sgomberati per cedimenti strutturali. Alcuni sono stati abbattuti altri rappresentano un serio pericolo come questo palazzone di Via Libertà sia in corrispondenza con i lavori di demolizione in fase di esecuzione su Via Petralia uscito fuori asse di almeno mezzo metro nel punto più alto come si vede dalle immagini. Un piccolo movimento dell'unico può causare il crollo dell'immobile che insiste in una zona è densamente abitata e trafficata. Più a nord, qui siamo a quartiere Santa Lucia le case del Pigno da tempo sono state sgomberate per timore di crolli indeboliti dalle fondamenta dai terremoti che ciclicamente interessano il territorio e accaduto, accadrà ancora. Con i terremoti dobbiamo convivere o corredificare nel rispetto delle norme antisismiche lontano da superficie attraversate da faglie. Recuperare i guasti del passato non sarà facile. Il consigliere di opposizione Giuseppe Leo ha sollevato la questione nell'incontro con il commissario per la ricostruzione post-sisma Salvatore Scaria ha ottenuto precise rassicurazioni. Adesso tocca all'amministrazione in carica sedere attorno ad un tavolo gli enti dei preposti ed intraprendere un'azione comune di sostegno a quanti hanno perso la casa e sono rimasti fuori dai risarcimenti. Quale errore parte già con l'amministrazione Oliveri? Infatti abbiamo notato uno scempio fatto dall'ex sindaco Oliveri che non ha notato che alcune case erano state dichiarate in classe B, C ed E quindi soggetti a finanziamenti e quindi a delegalizzazione e altre no. Quindi qua si avrà un problema grande. Ora tocca a questa nuova amministrazione. Ieri ho parlato con il dottor Scalia che mi ha ricevuto e lo ringrazio ancora per la disponibilità, cortesia e modo di pensare ma soprattutto lavorare il quale ha dato massima disponibilità di ragionare ma è chiaro che dobbiamo ragionare con la protezione civile con l'assessorato di Palermo e con la nostra protezione civile. Ci sono tutte le carte regole per finalmente porre fine a uno scempio degli anni Ottanta che hanno fatto edificare su una faglia sismica assurdo, vergognoso ma soprattutto poter realizzare uno spazio enorme a parcheggio in una zona importante, centrale e soprattutto a ridosso del centro storico. Questo era uno dei punti del mio programma ma soprattutto oggi è a costo zero per il lente anziché sperperare 80.000 euro sul nulla spendiamo 30.000 euro per qualcosa di importante per qualcosa della città ma soprattutto per il rilancio del futuro del nostro paese. Grazie al dottor Scalia che ci ha dato disponibilità aspetta ora al sindaco passo a lei il mano il testimone già ieri ho informato sia il sindaco ma l'ho fatto anche un'interrogazione in consiglio comunale e spero e mi auguro che si capisca che questa non c'è né opposizione né maggioranza ma c'è il bene di un'intera comunità che non può prevedere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Catania non è impreparata nell'eventualità di maltempo netta la replica dell'assessore ai lavori pubblici Pippo Arcidiacono alle accuse lanciate dal presidente di Catania nostra Andrea Cardello riguardo ai tombini otturati in città La città di Catania non si farà trovare impreparata dal maltempo sarà quest'anno in grado di affrontare eventi che precedentemente non avrebbe potuto fronteggiare ad affermarlo ai nostri microfoni e l'assessore ai lavori pubblici al comune di Catania Pippo Arcidiacono che rassicura ai cittadini con una netta replica alla questione riguardante i tombini otturati sollevata da Andrea Cardello presidente del comitato Catania Nostra quasi tutte le caditoie della città ben 5.700 affermarci diacono sono state già ripulite contrariamente a quanto segnalato da Cardello quest'ultimo si informi o ci segnali eventuali anomalie continua l'assessore ai lavori pubblici che spiega come già dopo l'alluvione dello scorso anno da marzo gli operai del comune hanno lavorato su tutto il territorio sarebbe opportuno che chi parla prima si informasse e lo facesse in momenti non elettorali evidentemente è mal informato il signor Cardello chi per lui perché Catania abbiamo ripulito ad oggi 5.700 tombini e abbiamo iniziato dal centro storico dei 5.000 quasi 500 tombini che abbiamo fatto sinora grazie a Canal Jet abbiamo fatto un provvedimento assolutamente di emergenza e speciale proprio partendo dal centro storico da Piazza Duomo Piazza Università pescheria e dintorni perché purtroppo per le questioni geologiche e anche di dislivello con i paesi piedemontani è lì che si accumula la gran parte dell'acqua e da lì abbiamo iniziato abbiamo poi proceduto regolarmente per tutta la zona del centro storico dico tutta poi abbiamo continuato con Picanello e successivamente con la terza municipalità e basta chiedere ai presidenti di municipalità che non potranno che confermare tutto questo e ci sono stati quelli che abbiamo dovuto diciamo pulire con il Canal Jet che è stato dato dalla Multiservizi e quelli che invece era da fare a mano fanno eccezione continua Arcidiacono un centinaio di tombini su cui serve una manutenzione speciale con investimenti più corposi perché otturati da cemento o terra vulcanica purtroppo ci sono dei tombini che sono otturati ma non otturati da sporcizia perché sono stati a suo tempo messi su zone che erano chiuse proprio completamente chiuse e non collegate a scarichi interni e quelle hanno bisogno di una diciamo diversa situazione vanno riviste nella loro complessità ed è un problema un po' più impegnativo economicamente importante purtroppo il comune ancora è in dissesto lo ricordo per cui le spese non le possiamo fare in modo così semplice ma riguardo alla sicurezza pubblica l'assessore Arcidiacono non si ferma solo sulla problematica delle caditoie come tiene a precisare l'altra importante questione afferma riguarda l'illuminazione pubblica carente e non funzionante in buona parte del capologo etneo a causa di alcune problematiche con l'uscente green light per la gestione dell'illuminazione pubblica molti interventi non sono andati a buon fine ma dal primo ottobre afferma l'assessore Arcidiacono quando subentrerà Enel Sole tutto cambierà buone parti della città è al buio sia al centro che in periferia ma dico ai cittadini da questo emittente che dall'1 ottobre Enel Sole prende il servizio e per come è stato formulato il capitolato di gara ed è stato accettato su MEPA dalla Enel Sole credo che entro l'anno vedremo una città che sicuramente avrà superato questi problemi e queste criticità molto importanti il covid adesso sono 994 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia il tasso di positività oggi al 10,2% ieri all'8,8% i guariti sono 1.634 registriamo un deceduto sul fronte ospedaliero i ricoverati da covid sono 289 18 e meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 26 pazienti uno in meno rispetto al giorno precedente per quel che riguarda la mappa dei casi covid nelle diverse province oggi Palermo 225 casi Catania 223 Messina 168 prosegue la digitalizzazione di poste italiane adesso è possibile richiedere sul sito sull'app tutti i documenti necessari per ottenere in modo rapido l'attestazione ISEE poste italiane mette a disposizione la possibilità di richiedere online tutti i dati necessari per il calcolo ISEE l'indicatore della situazione economica equivalente strumento lo ricordiamo che consente di accedere alle varie agevolazioni fiscali come il bonus nido il bonus libri la riduzione della tariffa per la mensa scolastica e quella per le tasse universitarie serve inoltre per ottenere borse di studio e richiedere il reddito di cittadinanza bastano pochi minuti in modo semplice e veloce collegandosi al sito delle poste è possibile avere in tempo reale saldo e giacenza media dei conti correnti dei libretti di risparmio dei buoni fruttiferi postali e di tutti gli altri prodotti finanziari necessari per la presentazione dell'attestazione ISEE l'accesso è molto semplice basta accedere al nostro sito www.poste.it e loggarsi con le proprie credenziali una volta che si è loggati con le proprie credenziali accedere alla sezione servizi in particolare sarà evidente il link dove poter scaricare tutta l'attestazione della giacenza media e finise e seguire tutte le indicazioni che verranno evidenziate Poste Italiane fornisce tutti i dati relativi alla giacenza media che ogni nostro cliente ha con il nostro istituto con Poste Italiane in particolare i dati ai fini ISEE 2022 saranno quelli delle giacenze medie relative all'anno 2020 sempre meno fila dunque agli sportelli postali meno consumo di carta nel segno della sostenibilità insieme ad un miglioramento dei servizi e all'innovazione questi obiettivi portati avanti da Poste che guarda sempre di più ai canali digitali come il sito e le app per accedere ai servizi in totale sicurezza il processo il processo che ha intrapreso ormai Poste Italiane in favore dei cittadini del sistema paese è un processo che ha sposato appieno la digitalizzazione sia attraverso il nostro sito sia attraverso le app sia attraverso il sistema di accesso sui nostri uffici postali questo permetterà di rendere i servizi sempre più chiari sempre più veloci e rispondere alle esigenze di tutti i cittadini arte cultura spettacolo sono i tre pilastri su cui si erge Giarre Città Educativa progetto a carattere mondiale che abbraccia 500 comuni in tutto il mondo unino all'arte e alla cultura e allo spettacolo Giarre Città Educativa si prepara a partire venerdì 16 settembre promette di coinvolgere i giovani della ricca popolazione studentesca che qui conta oltre 7 mila unità sarà un mese di incontri concerti conferenze anche alla presenza di grandi ospiti come Vittorio Sgarbi e Guia Ielo il progetto inserisce Giarre in un network che abbraccia 500 comuni in tutto il mondo Palermo e Siracusa tra questi siamo riuscite ad entrare tramite il patrocinio di un'associazione in questo circuito molto interessante che vede coinvolti tantissimi paesi del mondo circa una quarantina di paesi quasi 500 comuni in questa iniziativa è una giarre come tutti sappiamo è una città delle scuole è una città della pubblica istruzione e anche dell'istruzione paritaria è quindi molto rappresentata dal punto di vista numerico perché noi sfioriamo circa le 7 mila presenze giornaliere di studenti e quindi ci sembrava giusto accelerare questo processo per metterci questo simboletto che la dice lunga la dice lunga sul lavoro fatto dalle dirigenti dai presidi da tutti quanti hanno a cuore anche l'amministrazione comunale il mondo della scuola momenti di musica di arte di spettacolo sì la città educativa si pone proprio in questo senso non è l'istruzione in quanto tale libro quaderno tablet è un modo di porsi nei confronti della vita e del mondo che fa crescere questi ragazzi in una visione di insieme in una visione che renderà poi liberi questi ragazzi una volta avuto il titolo scolastico diciamo che avevano in programma perché è chiaro che tutto questo parte dalla scuola e ritorna alla scuola ma dobbiamo mettere avanti dei piccoli uomini delle piccole donne che riescono poi a costruirsi il loro futuro non legato al banco di scuola ci saranno artisti di fama nazionale ed anche internazionale sì abbiamo dei momenti di riflessione dei momenti di musica dei momenti di riflessione per quanto riguarda i beni culturali perché la Sicilia non è secondo a nessuno e la nostra zona non lo è più che mai e ci sono dei momenti dedicati allo spirito all'anima alla musica perché ognuno di noi riusciamo sempre a riflettere in un momento della giornata e a trovarci in introspezione con noi stessi e quindi un attimo di liberazione dopo anche questo lungo periodo di pandemia abbiamo anche una sezione dedicata a una donna meravigliosa che è Guia Ielo una donna scatanese siciliana un inno alla sicilianità un inno alla donna che si è spesa e si spende sempre per la difesa dei giovanissimi Vittorio Sgarbi è un nome una garanzia cioè un uomo completo che io oserei dire mi sono fatta una mia idea che è quella di un uomo filosofo noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pausa pubblicitaria andiamo infatti con gli spot in linea dunque alla regia oggi Fulvio Ferrauto e Carmela Fagone ci rivedremo subito dopo questo piccolo spazietto dopo la pubblicità non ci sono notizie dell'ultima ora dunque chiudiamo il giornale con le previsioni meteo per la giornata di domani Il meteo in Sicilia del 10 settembre cielo prevalentemente sereno ovunque nell'isola qualche nube nel primo pomeriggio principalmente nell'area occidentale della nostra regione i venti saranno deboli i mari poco mossi al mattino con moto ondose in aumento al pomeriggio e sera vediamo insieme le temperature che saranno stazionarie ma comunque alte rispetto alla media del periodo soprattutto lo vedete al cartello nella Sicilia orientale Con il meteo noi chiudiamo questa seconda edizione di Ora Tg prossimo appuntamento con l'informazione di ReTV domani alle ore 14 grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata a voi tutti grazie per la visione